La festa dell'Apostolo Mattia che prende il posto di Giuda ci aiuta a comprendere bene i criteri di discernimento della vocazione di ciascuno di noi. Notiamo innanzitutto che Mattia è colui che viene scelto a sorte e viene invece scartato Giuseppe detto Barsaba e questo ci fa capire molto. Noi spesso crediamo che per comprendere la nostra vocazione deve essere evidente, deve essere chiaro quando in realtà dimentichiamo che la vita è molto caotica, la vita è un mistero, la vita non la puoi contenere, nessuno di noi potrà mai sapere per certezza se il Signore ti ha chiamato a questo. Però nel frattempo la parola ci offre un altro criterio e c'è quello di essere testimone della resurrezione, c'è nella vocazione colui che ha sperimentato che Gesù è veramente risorto nella mia carne, nella mia storia, che mi ha raccolto, io ero senza speranza, la mia vita era insignificante e Lui ha fatto della mia vita una resurrezione. Questo è il criterio portante di ciascuna vocazione, che veramente il Signore è risorto nella nostra vita, che il Signore ci aiuti a metterci sui passi di Mattia, sui passi degli apostoli, sui passi di tutti coloro che sono testimoni della resurrezione. Buon ammissio!